Musica Buongiorno a tutti i telespettatori E' passato un mese dall'atterraggio dell'Apollo 11 sulla superficie lunare E Armstrong conferma la salute di tutti i membri dell'equipaggio Negli Stati Uniti viene annunciato uno strabiliante traguardo riguardante l'aumento della popolazione Superando i 200 milioni di individui La legge italiana numero 153 introduce la pensione sociale Erogata dall'Inse ai cittadini ultra 65 anni Viene rilasciata all'esterno dei confini nipponici la fantastica notizia della nascita dell'uomo tigre Si è inoltre conclusa ieri la seconda giornata del clamoroso festival di Woodstock Al quale stanno partecipando più di 500.000 spettatori Queste sono le notizie più importanti Al quale stanno partecipando più di 500.000 spettatori